Le 21.11 di stasera 22 settembre 2017, ben trovati, siamo qui stasera per la terza puntata di questa stagione nuova, stagione 2017-2018 di stasera con tanti argomenti. Stasera abbiamo una chicca veramente qualificata di ospiti, come le altre sere, che hanno avuto tanti riscontri, tanti consensi per il voltar pagina dei talk show, dell'informazione, dell'intrattenimento serale della nostra emittente. Stasera in particolare ci sarà il buon Enzo Nicoletti, il dottor Enzo Nicoletti, che in concomitanza di una preannunciata iniziativa del Rotary Club di Calteggerone, che si celebrerà domani alle 18 nella chiesa di Sant'Anna in Viale Principe Umberto a Calteggerone, non a caso la chiesa di Sant'Anna, perché si parla della chiusura dell'istruttoria di canonizzazione di Don Luigi Sturzo. La chiesa di Sant'Anna fu fondata, fu voluta da Don Luigi Sturzo, quindi quale location migliore per presentare in anteprima questo. Stasera Enzo Nicoletti in diretta, qui avrà tre autorevolissimi ospiti, il professore Giovanni Paladino, che è già Presidente del Centro Internazionale Studi Sturziani, quindi Monsignor Francesco Maria Tasciotti, che è il giudice istruttore per le cause dei Santi presso il Tribunale del Vicariato di Roma, che ha curato appunto in postulanza del processo di beatificazione di Don Luigi Sturzo. Quindi il professor Carlo Fusco, postulatore della causa di beatificazione di Don Luigi Sturzo. Quindi questi tre autorevolissimi ospiti, sono ospiti, scusate il visticcio di parole, in un segmento curati dal buon dottore Enzo Nicoletti, che ci parleranno, ci anticiperanno, ci faranno comprendere a che punto è, di che cosa si parlerà, perché poi l'ufficializzazione di questa verrà alla fine di novembre in concomitanza dell'anniversario della morte di Don Luigi Sturzo, figura eminentissima non soltanto come sacerdote, ma anche come politico e sociologo a livello internazionale, non soltanto italiano. Poi abbiamo un segmento, è stato richiesto per fare il punto sull'attività politica amministrativa nella città di Mazzarone. Mazzarone quest'anno ci sta particolarmente a cuore, così come ci sta particolarmente a cuore la scoperta della vicino, ma importantissima città di Piazza Arverina con tutto quello che ne consegue. Quindi stasera un appuntamento per fare, dopo la pausa estiva e dopo l'elezione della nuova giunta lo scorso 11 giugno, facciamo il punto della situazione con degli ospedi in studio. Ancora si avvicinano le elezioni regionali, cerchiamo di conoscere i più accreditati candidati che si pongono all'attenzione nel collegio, questa sera ancora una volta, della provincia di Catania. Sarà con noi l'assessore regionale al turismo, Antony Barbagallo. Quindi non mi dilungo ancora più di tanto, pausa pubblicitaria e torniamo subito in diretta con il primo segmento. A dopo.